Presidente, consiglieri, io ovviamente argomentandola brevemente perché le parole non sono idonee per racchiudere ciò che sta accadendo, ritenevo giusto che il Consiglio Comunale facesse un minuto di silenzio per la devastazione degli incendi nei nostri territori, nella nostra città, nella nostra area metropolitana, il tema chiaramente non è solo della Campania, vediamo anche quello che sta accadendo a Roma e in altre parti del territorio nazionale. Non è il momento questo, ci sarebbero tante cose da dire sul perché è accaduto tutto questo, ognuno di noi farà gli approfondimenti necessari, però credo che il Consiglio Comunale di Napoli oggi deve esprimere un sentimento unanime di condanna e di profonda tristezza, il fatto che in poche ore si sia distrutto un patrimonio ambientale costituito nei decenni e forse se pensiamo al Parco del Vesuvio addirittura nei secoli, quindi questo è qualcosa che non può che unire tutte le persone, non dico tutti i consiglieri comunali, tutte le forze politiche, tutte le persone al di là di qualche criminale che chiaramente ha messo in atto tutto quello di cui stiamo osservando in questi giorni. Poi a nome mio personale, ma credo anche qui di interpretare la volontà di tutti, vorrei ringraziare le tante persone che in questi giorni o per motivi istituzionali perché fanno attività di mestiere in questo come i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la protezione civile e altri, ma anche i tantissimi cittadini e i tantissimi volontari che con le mani, con i secchi, con le pompe, con i mezzi a disposizione hanno cercato di difendere il territorio. Io penso che le immagini di questi giorni, soprattutto guardando il Vesuvio, noi non l'abbiamo mai visto, almeno io a 50 anni non ho mai visto un ruoco di quelle dimensioni, quindi è il compito anche nostro da un punto di vista istituzionale però approfondire, lo faremo nei prossimi giorni, io lo sto facendo già da diversi giorni perché credo che noi abbiamo il diritto di avere risposte su quali sono le strategie criminali che stanno dietro a questo e chi ne sono i responsabili. Poi forse un appello di tutti, a tutti gli abitanti e i cittadini dei nostri territori, stare un po' tutti quanti più attenti per quello che accade anche nella nostra città, quello che è accaduto ieri è qualcosa di, anche questo, di mai verificatosi. A macchia di leopardo sono stati incendiati da una parte all'altra la città, dalla periferia al centro, dalle colline alle aree periferiche una serie di incendi dolosi. Anche questo è un fatto inusuale, è un attacco alla città, evidentemente molto chiaro, su cui ognuno di noi deve fare delle riflessioni, si deve interrogare e deve dare da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio, da cittadino delle risposte. Noi lo faremo, lo faremo per tutta l'estate, non ci muoveremo da qui e metteremo in campo tutte le azioni necessarie per difendere i nostri territori. Oggi però prevale non l'analisi, non prevale il dito nei confronti di qualcuno che ha potuto sbagliare, perché pure ci sono oltre che dolo c'è anche colpa in tantissime articolazioni, ma è il momento di far comprendere la città come il Consiglio Comunale di Napoli condanna duramente e che si stringe attorno alla nostra terra e che non si vuole piegare di fronte a chi pensa che in questo modo persegue un interesse evidentemente economico di altro tipo e che tutto rimanga indifferente. La cosa più pericolosa, e chiudo, quando accade qualcosa di questo è che non ci sia almeno una rivoluzione nelle coscienze anche dei più indifferenti. Quindi facciamo almeno il modo che questa tragedia immane che è accaduta non solo non accada mai più, ma che scuota le coscienze affinché si invertano le priorità di azione da parte di ognuno di noi, come cittadini e come donne uomini delle istituzioni. Quindi oggi non facciamo un minuto di silenzio per la morte di qualche persona, ma facciamo un minuto di silenzio per la morte di una montagna che per quanto mi riguarda equivale a un omicidio. L'omicidio tu ammazzi una persona ed è punita in modo molto grave con l'ergastolo. Distruggere una montagna distruggi praticamente un patrimonio ambientale e distruggendo un patrimonio ambientale è come se distruggessi anche la vita degli esseri umani che derivano dalla natura. E anche su questo ricordiamoci che il legislatore negli ultimi anni ha innalzato fino a 20 anni con le aggravanti la pena per chi incendia un bosco. Quindi è dovere della magistratura e delle forze dell'ordine. Io ho chiesto al prefetto e al procuratore di fare di tutto perché noi dobbiamo sapere chi sono queste persone che hanno provocato un danno al nostro territorio e alla nostra vita. Quindi chiedo al Presidente, all'Aula, a nome di tutta la città di Napoli, perché chiaramente noi quella rappresentiamo qua, poi è ovvio che rinveste un'area molto più vasta della città di Napoli, ma noi non possiamo andare oltre perché è una sede istituzionale. Un minuto di raccoglimento per la tristezza ma anche per il risveglio delle coscienze. Ringraziamo il Sindaco e sicuramente ci associamo a questa richiesta invitando l'Aula ad un minuto di silenzio. Grazie. 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 Grazie.